Il corso capi di nuova nomina, Criterie tecniche per un'efficace azione direzionale, offre un percorso modulare che permette di comprendere le dinamiche organizzative, con particolare attenzione alle relazioni interpersonali e interfunzionali. I partecipanti analizzeranno il proprio ruolo, sviluppando competenze per migliorare la comunicazione e assumere responsabilità verso se stessi e il team. Tra i principali vantaggi del corso ci sono l'apprendimento di tecniche per la gestione efficace dei team, la capacità di motivare e responsabilizzare i collaboratori e la promozione di una leadership orientata al miglioramento continuo. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.